Per te papà. Dove in questa casa non c'è un po' di pace, anche il mio cuscino parla e dentro qua c'è. Il vestito dell'armadio spara forte, la spara di un metro in cara, la credenza guarda i piedi fatta e scenda. Come già stanno le porte, ma ci spazio un po' più forte, ed i fiori nella inguola fino a sera. Allora si può sapere come mai non scappi via. Per te non molli tutto e non vieni a casa mia. Perché qui c'è l'amico mio fantasma, che dal set e cento soffre casma. Si nasconde sulle scale perché vuole farti bu, ma respira così forte che lo senti prima tu. Ma che forza è questo amico mio fantasma, è un fantasmagorico e il tuo plasma. Lui adoro i tortellini, può mangiarne un figlio e più. E per questo il suolo in suolo è sempre sporco di ragù. Ma non posso riferirmi quel che dice, quando mamma poi lo mette in lavatrice. Lo metto nello zaino, andiamo a scuola insieme, così se vengo interrogato presto. Bene, perché è un bravo a suggerire senza farsi ma scoprire. E l'inconfitto di storia è il momento su di gloria. Lui li ha conosciuti tutti da Leonardo ai mamma a Lucchi. E già ad Alessandro è grande e non solleva le mutande. Ma tu lo sai che hai un amico eccezionale, me lo presca d'allomigna il carnevale. No! Perché? No! Perché? Assolutamente no! Perché, perché, perché? Perché mio questo amico mio fantasma. Che da sempre cerco soffre d'asma. Si nasconde sulle scale perché vuole infatti bu. Ma respira così forte che lo senti prima tu. Ma che forza questo amico, ma che forza questo amico mio fantasma. È un fantasmagorico ecco plasma. Lui adora i tortellini, può mangiarne un filo e più. E per questo il sole il sole è sempre sporco di ragù. Ma non posso riferirvi quel che dice quando mamma palomette in lavatrice. Ma non posso riferirvi quel che dice quando mamma palomette in lavatrice.